La storia di Artemisia Gentileschi La storia di Artemisia è contrassegnata da molti momenti di dolore, ma anche da molti momenti di gioia e trionfo. Difatti è una donna che ha saputo riscattarsi. E noi questa storia ve la racconteremo con le parole di Gaetano Colella, le nostre voci, il canto polifonico e le musiche originali scritte da Biriangotti. Vi aspettiamo domenica 26 novembre alle ore 17. Grazie a tutti.